In Puglia, in provincia di Bari e non solo, di lavoro si muore meno che in passato, ma purtroppo ancora troppo spesso. I dati presentati in prefettura rilevati dal servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'Asle di Bari parlano di una riduzione complessiva degli infortuni del 3,3% tra il 2012 e 2013, nonostante gli ultimi avvenimenti di cronaca abbiano sollevato di nuovo l'attenzione su un tema che non può essere perso di vita. L'incidenza degli infortuni rispetto al numero degli addetti, quindi anche rispetto al numero degli addetti che si è venuto a ridurre a causa della crisi, l'incidenza degli infortuni diminuisce. Mentre in Italia diminuisce circa dell'8%, in Puglia diminuisce di oltre il 12%, anche in provincia di Bari. Quindi risultati importanti da valorizzare. Però, quando ci fermiamo a riflettere sul numero degli infortuni che comunque registriamo, non sono più 11.000 in provincia di Bari, sono circa 10.000, proviamo a dividere 10.000 per 365 giorni all'anno. Che significa? Significa che ogni giorno abbiamo quasi 28 incidenti sul lavoro. Ogni ora un incidente virgola due. I dati parlano anche di un preoccupante aumento del 27% delle malattie professionali, soprattutto muscoloscheletriche, che però lo Spesal attribuisce a un'emersione di infortuni prima sottovalutati. Nel 2013 i cantieri edili che hanno ricevuto un controllo da parte degli enti preposti sono stati circa il 24% del totale, ma le verifiche sono spesso frenate dalla scarsità di personale addetto ai controlli. Oggi noi stiamo riportando tutti questi dati che dimostrano come il miglioramento della situazione è frutto di un'azione combinata di politiche che hanno come obiettivo finale ovviamente la salvaguardia della salute dei lavoratori. Occorre recuperare, come altrove è stato fatto in Europa, cultura della sicurezza. Non si può essere più competitivi risparmiando sul lavoro ed in particolare sulle norme sulla sicurezza. Si è più competitivi se si investe in sicurezza, si salvano le vite umane e si mettono le persone nelle condizioni di crescere dal punto di vista professionale ed umano anche attraverso il lavoro.